I terremoti sono tra i disastri naturali più mortali. Distruggono edifici. Causano tsunami. Demoliscono una città dalle fondamenta. Hanno il potere di sconvolgere le vite delle persone. Questa è la storia di tre zone sismiche. Ognuna ha sperimentato in passato terremoti devastanti. Ognuna vive con la consapevolezza che ne vedrà altri in futuro.